Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vedremo i risultati delle partite della puntata numero 8 terza fase del che abbiamo scommessa, sperando naturalmente che tutti i pronostici siano vincenti. In caso contrario il gioco continuerà solo per coloro che avranno indovinato tutte le partite che hanno pronosticato, mentre chi non avrà indovinato almeno un pronostico sarà eliminato dal gioco. Ma adesso andiamo a vedere i risultati delle partite. Il primo partecipante Francesco Buono aveva pronosticato Renkan 1 finito 3 a 1 vincente, Marsiglia Nizza 1 finito 1 a 0 vincente, Salzburgo Lyon gol finito 2 a 2 vincente, Borussia Dortmund Stoccarda over 2,5 finito 3 a 1 vincente, Atletico Madrid Leganes 1 finito 1 a 0 vincente, Barcellona Arraio Vallecano no gol finito 3 a 1 perdente e Newcastle Everton 1x finito 3 a 2 vincente. Poi abbiamo Cosimo Colucci che aveva pronosticato Inter Spal 1 over 1,5 finito 2 a 0 vincente, Sambudori Atalanta over 2,5 finito 1 a 2 vincente, Fiorentina Lazio gol finito 1 a 1 vincente, Bologna Cagliari gol over finito 2 a 0 perdente, Venezia Palermo giocherà questa sera che aveva pronosticato x2 over 1,5, poi abbiamo Chelsea Wolverhampton 1 finito 1 a 1 perdente e Real Valadolid Real Madrid 2 finito 1 a 4 vincente. Allora a passare il turno non passa praticamente nessuno perché Francesco Buono purtroppo ha perso solo una partita mentre Cosimo Colucci ne ha perso i due. E con questi risultati il club della scommessa numero 8 finisce qua. Vi ricordo inoltre che ogni mercoledì inizierà sempre un nuovo gioco dove tutti potete pronosticare una partita e partecipare gratuitamente al nuovo gioco del club della scommessa. Provate a partecipare al prossimo gioco ed invitate anche i vostri amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!